lo so ma a me non mi piacciono più i sassi si, lui non la fa con la tecna in teoria devi toccare, almeno in alto lui la fa perfetta, preciso, è una salita lui la fa più morbida tu la fai, eh beh ma normale, ma anche a me non mi piacciono se riprendo da qua sembro altissimo ok Ok. Mi vuol provare a dare anche quello dopo eh? Sì. Sì, sì. Ha già provato prima eh? È vero che vuoi dargli anche quello dopo, solo che arrivi lì storto. No, cioè dovresti farlo da qua... Perché anche prima sei arrivato lì... Ah! Ah! Eh, però non sto dietro brutto. Esatto. Esatto. Ah! 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 Ma c'è buco! Ma c'è buco! C'è buco qua! No, questo se lo devi fare lo devi fare qua dove c'è la robina. Da sotto! E basta, diritto e esci. C'è la salita ma c'è anche la discesa. Hai capito? Che dopo devi scendere. C'è anche la discesa. Non è andare su e poi uscire. Eh, ho capito. Se sbagli vai là nel coso. In strada vai. Vai là in strada. Da sta va. Da sta va.